Il fatto di nuovo è esattamente quello di scontrare, lo stereotipo, c'è anche l'ora che ho detto, ma l'ottino ha scontato il cuore, non è vero, è una cultura millenaria, i carni hanno accettato la storia, magari ora, prima di ascoltare un programma linfonico, l'italiano impara la lingua, così almeno non fra i denti, capito, perché stavamo difendendo, stavamo smentendo gli stereotipi, ma... Potete cominciare a leggere un po'? Esatto, ok, tipo questo, tipo questo, tipo questo, no, 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 E' un paese meraviglioso, c'è una delinquenza, c'è una testa, è per questo che abbiamo fatto questo blocco, cioè perché lì, praticamente prendono il...